Presentazione all'Aula Pucci per quanto riguarda la nuova edizione di Sport in Piazza. Come si svolgerà quest'anno? Quante sono le società che stanno aderendo e che hanno aderito? Sempre di più. Quest'anno, almeno come associazioni sportive, siamo intorno ai 40. Le adesioni continuano ad arrivare sempre di più. Rispetto agli altri anni sarà un'edizione ancora più numerosa e con ulteriori novità. Siamo molto soddisfatti. Chiaramente è un lavoro molto importante, per questo ringrazio gli uffici, ringrazio la qui presente Anna Battaglieni, rappresentanza del volontariato, che ci danno una mano fondamentale per la riuscita di questo evento. Ringrazio il sindaco che mi dà sempre carta bianca per quanto riguarda la realizzazione di queste manifestazioni, però siamo molto soddisfatti. Anna Battaglieni, abbiamo già visto l'evento sportivo al volontariato Palermo della Vita, per cui confermate sempre più legati a questo settore. Sport e solidarietà, sport e sociale sono un connubio inscindibile, proprio perché c'è scritto attivi, felici e inclusivi. Perché dobbiamo mantenere che questa città è inclusiva. Fondamentalmente lo sport è la prima disciplina che include, proprio perché gareggiamo ognuno con le nostre capacità, ma dimostriamo di essere sempre più grandi. Sindaco, una giornata piena di eventi con tutte queste associazioni, questi ragazzi che mostreranno la loro passione, quindi una cosa veramente interessante e fondamentale. Una passione che caratterizza una città che vive di sport e lo ha sempre dimostrato nel corso di questi anni. Ed è una manifestazione, come si diceva prima, in cui bisogna essere attivi, felici e inclusivi, perché in effetti sono quei requisiti che dovrebbero appartenere a tutti noi, soprattutto poi in un momento come questo, che è comunque un momento assolutamente non facile. E credo che l'occasione, ancora una volta, come è stato anche l'anno scorso, sarà un'occasione per essere tutti insieme, per approfittare della nostra splendida marina e per vivere questo momento di felicità attraverso lo sport. Un'organizzazione fantastica, anche io non posso che ringraziare Anna Battaglini, tutte le associazioni che si sono coinvolte, Matteo Iacomelli che come delegato allo sport ancora una volta ha dimostrato le sue capacità e credo che sarà un successo, come lo è sempre stato, in un miglioramento continuo che nel corso degli anni sicuramente ci offrirà altre giornate come queste. Stefania Di Ioli, anche quest'anno presente il CONI, che come sempre dà il suo appoggio a questo tipo di manifestazioni. Sono qui rappresentanza del dottor Riccardo Viola, che non è potuto essere presente. Certo, Sport in Piazza è un brand, è una progettualità che il CONI porta in tutte le piazze della Regione Lazio. E Civitavecchia, rispetto anche alle altre realtà, ha avuto da subito una particolarità, cioè che le associazioni sportive in massa hanno aderito a questo evento. Quindi è una giornata di festa per tutta la città, per tutte le associazioni. Vi aspettiamo tutti per divertirci con noi sabato 24 settembre. Grazie. Grazie.